Ciao a tutti e bentornati su About Biology. Secondo la teoria atomica di cui abbiamo parlato negli scorsi video, trovi sempre i link qua sotto in descrizione o qua in alto a destra nelle schede, gli atomi hanno delle masse definite e misurabili. La massa di un atomo dipende infatti dal numero di protoni, neutroni ed elettroni che questo contiene. Solo che pesare direttamente un singolo atomo è qualcosa di impensabile. Oggi siamo in grado di stabilire in modo indiretto il valore delle masse assolute degli atomi e questo utilizzando uno strumento molto sofisticato che è detto spettrometro di massa. La massa degli atomi però non si misura solitamente in grammi, ma viene confrontata con la massa di un atomo scelto come unità di riferimento e in base ad accordi internazionali si definisce unità di massa atomica, indicata con la sigla UMA oppure U, la quantità di materia pari a un dodicesimo della massa di un atomo dell'isotopo 12 del carbonio, a cui è stata attribuita per convenzione una massa pari a 12U, quindi un atomo di carbonio 12 possiede una massa di 12U esatte e quindi un'unità di massa atomica U è uguale esattamente a un dodicesimo della massa di un atomo di carbonio 12U, ovvero 1.67 per 10 alla meno 27 kg o anche 1.67 per 10 alla meno 24 g. Noi parliamo di massa atomica relativa di un elemento come il rapporto tra la massa assoluta dell'atomo e l'unità di massa atomica. Spesso questa massa atomica, anche se impropriamente, viene indicata come peso atomico. Sulla tavola periodica, infatti, è riportata la massa atomica di ogni elemento, ma se leggiamo per esempio quella del carbonio, ci accorgiamo che il suo valore è di 12.01 unità di massa atomica, al posto dei 12 esatti che avevamo definito prima. E questo non è un errore. Il carbonio, infatti, come la maggior parte degli altri elementi naturali, è presente in natura sotto forma di isotopi diversi. E questo significa che quando andiamo a misurare la massa atomica di un elemento, possiamo ottenere una massa che è mediata su tutti gli isotopi dell'elemento presente in natura. Questi valori, quindi, quel numerino che vediamo sulla tavola periodica, è il risultato della media della massa dei diversi isotopi di un elemento. Questo tenuto conto dell'abbondanza relativa di ogni isotopo in natura. In base all'abbondanza isotopica, cioè alla presenza percentuale di ogni singolo isotopo, la massa atomica media risultante può essere quindi considerata una massa media pesata rispetto all'abbondanza isotopica. Di conseguenza, la massa atomica non si calcola come una media aritmetica, ma come una media ponderata, tenendo quindi di conto delle percentuali dei singoli isotopi in un campione naturale. Ad esempio, il calcolo di una massa atomica relativa è definito come la percentuale di un isotopo 1 per la massa dell'isotopo 1, più la percentuale dell'isotopo 2 per la massa dell'isotopo 2, e così via alla percentuale dell'isotopo n per la massa dell'isotopo n, e tutto fratto 100. Ora, anche le molecole come gli atomi hanno una massa relativa definita e caratteristica, che è chiamata massa molecolare. E la massa molecolare, indicata anche con mm, si calcola semplicemente sommando la massa atomica di tutti gli atomi che compaiono nella formula, e ognuna ovviamente moltiplicata per il rispettivo indice. Spesso la massa molecolare è anche indicata con peso molecolare, o PM. Facciamo un esempio. La massa molecolare dell'acido solforico, che ha la formula di H2SO4, sarà semplicemente 2 per la massa atomica dell'idrogeno, più la massa atomica dello zolfo, più 4 per la massa atomica dell'ossigeno. E vediamo quindi che il risultato è 2 per 1.008 più 32.07 più 4 per 16.00. E questo dà come risultato 98.09U. Prima abbiamo detto che l'unità di massa atomica è stata introdotta come unità di misura relativa per calcolare le masse degli elementi. Dato che i singoli atomi hanno una massa che è troppo piccola per essere misurata. Negli esperimenti che facciamo in laboratorio però non andiamo a usare un atomo, ma abbiamo un campione che è macroscopico, quindi con una grande quantità di atomi. Ed è necessario anche in questo caso introdurre un'opportuna unità che sia in grado di valutare quantitativamente un numero così grande di oggetti. ed è per questo che i chimici hanno introdotto il concetto di mole. Ecco, questo discorso è molto importante perché spesso si arriva al concetto di mole senza aver capito bene le definizioni precedenti e il motivo per cui introduciamo il concetto di mole, che è proprio legato al fatto di avere delle quantità molto grandi di atomi, che noi dobbiamo semplicemente quantificare nei nostri esperimenti. Nel sistema internazionale delle unità di misura la mole è per definizione la quantità di una sostanza che contiene tante unità elementari, quindi atomi, molecole o altre particelle, quanti sono gli atomi che sono contenuti esattamente in 12 grammi di carbonio 12. E questa definizione non parte casualmente dal carbonio 12. Il numero effettivo di atomi contenuti in 12 grammi dell'isotopo 12 del carbonio è stato infatti determinato sperimentalmente e questo numero è stato chiamato numero di Avogadro. Il numero di Avogadro che è indicato con la sigla NA è questo qui che riporto nella slide. Spesso è anche ridotto in 6.022 per 10 alla 23. Quindi come una dozzina di gatti indica 12 gatti, una mole di atomi di idrogeno contiene esattamente 6.022 per 10 alla ventitreesima atomi di idrogeno. Prendere una mole di sostanza significa quindi prendere un numero di Avogadro di particelle. Ridiciamolo e stampiamocelo bene in testa, prendere una mole di sostanza significa prendere un numero di Avogadro di quelle particelle. E non so se l'avete percepito ma il numero di Avogadro è un numero incredibilmente grande. Un numero di Avogadro di granelli di sabbia andrebbero a coprire la superficie dell'Italia intera con uno spessore di 35 metri. Mentre invece un numero di Avogadro di arance riempirebbe la superficie terrestre con uno strato alto 16 chilometri. Ma allo stesso tempo il numero di Avogadro che è così grande ci fa capire quanto piccoli siano gli atomi. Perché un numero di Avogadro di queste particelle sta bene o male nel palmo di una mano. Ora abbiamo capito che una mole di sostanza contiene sempre lo stesso numero di particelle che per definizione abbiamo capito essere uguali al numero di Avogadro. Tuttavia la massa di una mole di atomi di ossigeno non equivale alla massa di una mole di atomi di zolfo o di idrogeno. E la massa di una mole di sostanza indicata anche come massa molare o peso molare corrisponde numericamente alla massa atomica espressa in UMA oppure U. Siccome riguardo questi concetti si fa spesso confusione è bene chiarire come calcolare la massa molare. La massa molare dell'acqua per esempio è di 18 grammi per mole e questo perché la massa molecolare dell'acqua è di 18U in quanto abbiamo due idrogeni e un ossigeno. L'ossigeno ha una massa di 16 e l'idrogeno di 1 ma visto che ci sono due idrogeni abbiamo 16 più 2 che fa 18U. Quindi una volta calcolata la massa molecolare sappiamo che semplicemente la massa molare corrisponde numericamente a questo valore. La massa molare di O2 è per esempio di 32 grammi su moli perché la massa molecolare di due molecole di idrogeno è di 32 unità di massa atomica. Ora facciamo attenzione perché il numero è lo stesso ma l'unità di misura della massa molare è grammi su moli mentre la massa molecolare come unità di misura all'unità di massa atomica. Perfetto quindi una volta afferrato questo concetto abbiamo capito che la mole ci consente di sapere quanti atomi o molecole sono presenti in un certo campione ma un punto cruciale su cui vanno avvertere anche la maggior parte degli esercizi su questi argomenti sta nel fatto che la massa, la massa molare e la mole sono in una stretta relazione tra di loro e permettono di eseguire varie tipologie appunto di esercizi e di calcoli. E la relazione che lega queste tre grandezze è questa qui ovvero il numero di moli è uguale alla massa in grammi fratto la massa molare. Se per caso non vi ricordaste questa relazione anche se in chimica deve essere immediata basta semplicemente lavorare con le unità di misura. Infatti abbiamo che le moli sono uguali alla massa in grammi fratto la massa molare in grammi su moli e grammi diviso grammi fratto moli ci dà chiaramente moli. Questa relazione è molto utile quando si va ad operare in laboratorio infatti quando utilizziamo la bilancia misuriamo la massa dei composti e degli elementi in grammi e se volessimo capire per esempio il numero di moli corrispondenti a 90 grammi di acqua il cui peso molare è di 18 grammi su mole sappiamo che questo è pari a 90 grammi che abbiamo pesato fratto 18 grammi su moli e quindi avremo come risultato 5 moli che sono il numero di moli corrispondenti a 90 grammi d'acqua. Se invece volessi capire la massa in grammi di un certo numero di moli utilizzo semplicemente la formula inversa quindi la massa in grammi sarà uguale semplicemente alla massa molare per il numero di moli. Ma se invece volessi sapere il numero di particelle di un certo numero di moli di una sostanza sembra una domanda impossibile ma semplicemente nell'esempio di prima abbiamo pesato 90 grammi d'acqua e con la massa molare di 18 grammi su mole abbiamo visto che in 90 grammi d'acqua noi abbiamo 5 moli di acqua. Se io volessi sapere quante particelle ci sono in queste 5 moli d'acqua cosa dovrei fare? Semplicemente moltiplico il numero di queste moli per il numero di Avogadro che sappiamo essere 6.022 per 10 alla 23 e in questo modo ottengo esattamente il numero di atomi presenti in queste 5 moli d'acqua. Benissimo per questo video penso di aver detto abbastanza io come sempre ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti e di lasciare un like a questo video se ti è stato d'aiuto. Ti invito inoltre a dare un'occhiata ai link che trovi nella descrizione dei video in quanto metto sempre anche il link ai vari video a cui mi riferisco inoltre il link ai vari social che sono instagram e telegram. Perfetto dovrei aver detto tutto e come sempre ti ringrazio per l'attenzione e a presto da About Biology a presto.